Ciao ragazzi e ragazze, prima di parlare della partita, voglio soffermarmi su una cosa. Cioè, non si può giocare una partita del genere in Arabia Saudita! E' veramente uno scempio vedere i sauditi con le maglie, i tifosi sauditi, con le maglie di Inter e Milan! E' un insulto al calcio perché non c'entrano una beata minchia! Riportate la Supercoppa italiana in Italia! Che cazzo c'entro giocare in questi paesi per quattro spiccioli poi? Ma cosa mi devo vedere? Il Saudita, che non c'entra nulla con la maglia di Inter e Milan! Ma dai, perché schifo! Che schifo! Non per essere razzisti ragazzi, ma non va bene cazzo! Non va bene! Che tifosi sono quelli? Degli infiltrati? Non sono dei tifosi, sono infiltrati! Comunque, comunque, l'Inter spazza, 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 spazza totalmente il Milan in questa partita! Dal primo al novantesimo, novantaseiesimo, quello che cavolo è! Non c'è stata partita, gente! L'Inter ha dominato in lungo e in largo! Io mi aspettavo una partita molto tattica, mi aspettavo una partita noiosa! Mi aspettavo, e mi aspettavo, mi aspettavo soprattutto più equilibrio in campo! E invece no! L'Inter ha dominato dal primo al novanta e novantacinquesimo, quello che cavolo è! Ma cosa è successo ai rossoneri? Che oltre alla ripresa del campionato, oltre alla vittoria contro la Serenitana, tra l'altro a Stento, non ne ha azzeccata più una gente! Milan, irriconoscibile rispetto a 5, 6, 7 mesi fa! Veramente, soprattutto in difesa, ragazzi, questa sera è uno scempio, un tomori disastroso! Ma io l'ho detto già nei video precedenti, adesso poi arrivo anche a parlare dell'Inter! Il Milan è troppo leao dipendente! Se non si accende il portoghese, il Milan è nullo, soprattutto in questa stagione! Non va bene, ragazzi! Non ha alternative! Dechetelare e Orighi non c'entrano nulla! Acquisti scandalosi, vergognosi! Giroud non può giocare tutte le partite! Il Milan ha bisogno di un attaccante! Non è stato sostituito, che sì, all'altezza! E potrei andare oltre, ragazzi! Però, adesso parliamo anche un po' dell'Inter! L'Inter che questa sera ha fatto una gran partita, uno zeko straordinario, stratosferico, gol di Lautaro, veramente favoloso! A centrocampo, sia Nikiterian che Cialanoglu che Barella hanno distrutto, annientato letteralmente il centrocampo del Milan! Già nel primo tempo si era chiusa, gente! Già nel primo tempo sta 1-2-0! La partita era praticamente finita! Poi nel secondo tempo l'Inter è un po' calata! Il Milan ha provato a fare qualcosa, ma poco gente! Solo qualche tiro sporadico da fuori aria, ma nullo, nullo! Nana non ha fatto nessun intervento impegnativo! E poi la perla di Lautaro che ha chiuso questa partita dove, ripeto, l'Inter ha strameritato di vincere! Inzaghi si conferma! Top! Top in Supercoppa! Le vince praticamente tutte! Coppa Italia e Supercoppa sono cosa sua! Nella partita secca è sempre decisivo! Gli manca un po' questa... Questa cosa del campionato che praticamente l'anno scorso l'hanno buttato via loro! E quest'anno difficilmente, anche se è ancora molto lunga, l'Inter può competere dopo lo scudetto! Lo può perdere solamente il Napoli! Complimenti ancora all'Inter e Milan, Milan, ragazzi, non me ne vogliate, tifosi rossoneri! Involuto! Involuto è veramente irriconoscibile! Like al video, iscrivetevi al canale, attivate! La campanella della notifica su tutte! E se vi fa piacere qualche piccola donazione cliccando sulla S con il simbolo del cuore con scritto grazie!